Un principio d'incendio ad una trave ha colpito la scorsa notte il ponte degli Alpini a Bassano del Grapp, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco lo hanno subito domato e sono scattate le indagini per appurare le cause che hanno innescato le fiamme. Il ponte degli Alpini è in restauro. L'episodio si è verificato nella notte e le operazioni di spegnimento sono state brevi. In mattinata però sono proseguite le verifiche per appurare le cause. Questa mattina personale del SAF si è calato in acqua per effettuare delle misurazioni con apparati speciali per escludere eventuali presenze di acceleranti che al momento sono escluse, quindi non ci sarebbero ipotesi dolose.